Emergenza Covid-19, il punto del consiglio, sulla campagna vaccinale nella prima seduta del nuovo anno. Strage di Diareggio, la vicinanza del consiglio regionale dopo il pronunciamento della sentenza della Corte di Cassazione. Il presidente Antonio Mazzeo capisco il dolore e lo sconcerto. La prima seduta del consiglio regionale del 2021 si è aperta all'insegna dell'emergenza da Covid-19. Questo il punto dei consiglieri sull'andamento della campagna vaccinale in Toscana. Io sono orgoglioso di come il sistema sanitario abbia reagito a questa fase nuova, quella della vaccinazione. Abbiamo messo in campo tutte le azioni che servivano perché tutti i vaccini che arrivavano nel tempo che arrivava la nuova ondata, la nuova consegna di vaccini fossero effettivamente dati a tutti i medici, a tutte le persone che erano in prima linea. Ora è importante guardare avanti, è importante prepararsi anche al futuro, fare in modo che sul territorio tutti possano essere vaccinati. Bene l'apertura dell'assessore Bezzini, anche a tutte quelle categorie sanitarie, di liberi professionisti che ancora non sono stati vaccinati. Loro davvero sono la nostra prima linea e a tutti loro dobbiamo dare la possibilità di lavorare in sicurezza. Sono orgoglioso perché non era scontato riuscire a mettere in piedi un sistema di vaccinazione come questo, ma allo stesso tempo credo che bisogna continuare a lavorare con forza per fare in modo che ogni cittadino, sia chi vive in una grande città, sia chi vive in un piccolo centro, più lontano dagli ospedali, possa essere vaccinato nei prossimi mesi e possa avere gli stessi diritti e la stessa dignità di tornare ad una vita normale. È assolutamente la strada giusta, la Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase, è quello che sappiamo della Pfizer, che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato, sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino, sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti dell'RSA e dell'RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili, questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. E attendiamo, speriamo presto, l'autorizzazione dell'altro vaccino, quello di AstraZeneca, che permetterà di affrontare invece di allargare in maniera significativa il numero di soggetti da vaccinare. Sono tante le richieste, noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità. Pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani e agli operatori, pensiamo a tante categorie. Abbiamo chiesto con un atto forte che il Consiglio regionale si pronunciasse nelle prossime ore per fare in modo che tutte queste categorie potessero avere il vaccino quanto prima, partendo ovviamente anche dai professori, dalle scuole per tenere volta rispetto a quella che è stata la riapertura. Chiediamo che allo stesso tempo, insieme a vaccini, si faccia un grande investimento culturale, sociale ed economico sulla cura. In queste ore, in questi giorni inizia la sperimentazione sui primi malati rispetto al processo e all'utilizzo degli anticorpi monoclonali che è stato concepito a Siena, in Toscana Life Science, speriamo che il governo investa tantissimo su questa cura e quanto prima possa essere a disposizione per fare in modo di abbinare la propria attività a quella dei vaccini. I vaccini naturalmente partono da due meccanismi di azione diverse, quelle che arriveranno in Italia e avranno una inoculazione temporalmente, quindi cronologicamente, differente. Quindi per poter dare delle risposte certe credo che non possiamo prescindere da quali saranno i vaccini a nostra disposizione, perché in questo momento abbiamo soltanto quello della Pfizer. A breve arriverà quello di Moderna, forse arriverà quello di AstraZeneca e quello della Johnson & Johnson. Quindi è ovvio che noi adesso combattiamo con le armi che abbiamo a disposizione. Naturalmente, come ha detto prima anche l'assessore, ci sono 12 hub poi risuddivisi in 40, diciamo, sottocategorie geografiche per poter fare il vaccino. Ma la vera discriminante è quello che potrà veramente abbattere le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso quando i medici di famiglia potranno erogare il vaccino. La nostra posizione è una posizione che chiede chiarezza, che chiede un piano vaccinale dettagliato, un piano vaccinale che sia, che passi dal Consiglio regionale della Toscana, che possa essere letto e capito da tutti i cittadini e che non sia demandato ai dibattiti sui giornali, perché quando sentiamo assessori che replicano a notizie date dai quotidiani nazionali e replicano dicendo che l'opposizione deve stare calma e tranquilla, ci fa preoccupare. L'opposizione non sta calma e tranquilla. L'opposizione è molto preoccupata da una gestione che spesso e volentieri negli ultimi tempi appare non gestita da professionisti, che appare molto aleatoria e surreale. Quindi è bene che attenti ci stiano loro che sono chiamati a governare e non l'opposizione che sta vigilando. A volte anche vigilando non si sa bene su cosa, perché ancora questo piano vaccinale non abbiamo capito se sia quello presentato dalla Giunta o quello che le commissioni continuano a chiedere perché non hanno visto. Quindi di chiarezza ne serve e ne serve ancora tanto. Quello che ho detto anche oggi in aula all'assessore Bezzini è che è necessaria una costante informazione di quello che viene fatto riguardo alla campagna vaccinale al Consiglio regionale, perché non a caso oggi ci sono state una notevole mole di interrogazioni a riguardo e questo è segno di una mancanza di informazione. Ovviamente ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2 che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana esclusi minori. Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono due anni, quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie, è questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. Una sentenza dura da accettare, voglio esprimere a nome mio e del Consiglio regionale la vicinanza ai familiari delle vittime. Queste le parole del Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo a seguito del pronunciamento della sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Viareggio, il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno del 2009, nel quale persero la vita 32 persone. Prescrizione per gli omicidi colposi e nuovo processo di appello per disastro colposo nei confronti degli ex vertici delle ferrovie. Una sentenza che ha completamente ribaltato quella pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze. Anche qui la scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione, un atto che esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni al fine di favorire una riflessione circa l'Istituto della prescrizione per i dati gravi, quelli colposi come è avvenuto a Diareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD, abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Diareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente nel nostro atto quindi abbiamo deciso questa volta di chiedere che in conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi l'omicidio colposo perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari. Però chiedere, e l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni, che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportate in ogni sede. Questa è la voce che arriva da questo Consiglio regionale, anche qui in modo del tutto univoco perché non c'è differenza di colore ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. Io sono abituato alle sentenze rispettarle e non a commentarle. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi principalmente come istituzione ci aspettavamo ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia chi ha perso la vita quella notte a Viareggio ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confutare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci. Resta l'amarezza, resta l'amarezza in dubbia di tutti i toscani al di là della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti, degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio è una sentenza che lascia la mano in bocca. È stato redatto un documento che ho firmato perché lo condivido appieno. È una sentenza vergognosa che non ci saremmo mai aspettato soprattutto per il dolore di questi familiari che hanno visto morire per la seconda volta proprio i propri congiunti. Ecco, io conoscevo molti di quelle persone che sono morte perché erano miei vicini di casa e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. I morti non possono andare in prescrizione e questo deve farci capire una volta per tutte che la prescrizione deve essere abolita, soprattutto nei casi in cui ci sono delle persone che muoiono. A mio avviso non dovrebbe proprio esistere mai, dal momento che viene reso noto un reato e se inizia un procedimento dovrebbe sempre fermarsi, però a maggior ragione in questo caso. Credo che non ci siano veramente parole per esprimere il disappunto e la vergogna come cittadina rispetto a questa sentenza. Grazie per la visione!